Un tangibile esempio di come la collaborazione attiva di virtuosi cittadini con le forze dell'ordine porti all'individuazione in poco tempo di chi invece virtuoso non è, si è verificato nei giorni scorsi a Fano. Venerdì 16 febbraio scorso, intorno alle 20 di sera, a Bellocchi, nella rotatoria vicino alle scuole elementari Montessori, una Golf guidata da un ventenne del posto ha centrato in pieno un cordolo stradale ed alcune strutture di deviazione del traffico posizionate in concomitanza proprio con la realizzazione della rotatoria per chiudere il vecchio ingresso della prima strada. Invitiamo comunque la cittadinanza a rivolgersi a noi anche quando rilevano dei danneggiamenti le strutture pubbliche senza più che ci siano sul posto i veicoli coinvolti perché come in questo caso si mette in campo un'attività di indagine e come anche in questo caso nella maggior parte delle volte si riesce a risalire all'autore e al responsabile che deve poi risarcire i danni proprio perché le strutture pubbliche sono un bene di tutti e quando vengono danneggiate intanto l'assicurazione copre pure i danni causati a queste strutture pubbliche ma qualora non si riesca invece a rintracciare un responsabile è chiaro che il costo ricade proprio su tutta la collettività. Notevoli danni causati sia alla macchina di proprietà della madre del giovane che alle strutture pubbliche fortemente danneggiate dall'urto e rese quindi anche pericolose. Ma questo non ha spinto il ventenne a denunciare l'accaduto come si deve fare in questi casi bensì ha fatto ritorno alla sua abitazione come nulla fosse. Ci hanno pensato però gli abitanti del posto ad allertare gli agenti della polizia locale che grazie appunto alle testimonianze raccolte anche senza immagini video hanno rintracciato in breve tempo l'autore del danneggiamento grazie anche ad alcune tracce lasciate sul posto. Abbiamo inviato una nostra pattuglia e grazie ad alcuni elementi reperiti sul posto, ad alcune informazioni è poi riuscita a risalire all'autore del danno. In particolare si è partiti da un piccolo frammento del logo della macchina dalla quale si riusciva a capire che si trattava di una Volkswagen. Poi i nostri agenti nonostante lì sul posto non vi sia la presenza di telecamere quindi non hanno potuto beneficiare di questo ausilio però grazie alle loro indagini e ad alcune informazioni insomma reperite sul posto come vi ho anticipato sono riuscite a risalire all'autore del danno. E' molto importante risalire in questi casi all'autore dell'incidente perché questo ci consente poi di poter risarcire le strutture pubbliche le strutture che sono a beneficio di tutti.